Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere ho acquistato un nuovo microfono, questo è un microfono a condensatore, è il modello Rode NT1A e come ben sapete, penso, è un microfono utilizzato per registrazioni da studio semiprofessionale. E perché io ho questo microfono? Ho questo microfono perché ho iniziato un progetto musicale con una mia amica e troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno in descrizione, c'è un video in cui ne parlo e di conseguenza avendolo acquistato per questo progetto posso anche utilizzarlo per i miei voiceover e per i miei video. Di conseguenza voglio mostrarvi la qualità di questo splendido microfono e voglio un attimo leccarvi quali sono i pro e contro di questo microfono. L'audio che sentite in questo momento viene chiaramente dalla macchina fotografica che è la Nikon D5200 e come sapete l'audio delle macchine fotografiche fa un po' schifo e quindi tra un po' andremo a sentire la differenza con il nostro Rude NT1A. Andremo a sentire la differenza con dell'audio registrato di ripeto dal microfono senza alcun tipo di editing, dopodiché andremo a sentire l'audio del microfono con un pochino di editing dietro. In questo video non vi mostrerò come fare a ottenere l'audio modificato ma se andate in descrizione troverete il video che ho fatto pochi giorni fa che riguarda il voiceover perfetto. In questo video troverete tutti i passaggi che io effetto per passare da una registrazione pulita ad una registrazione modificata che però dà un attimo di spessore alla voce, quindi se siete interessati anche a quello troverete il link in descrizione. Dunque iniziamo subito, sentiamo la differenza tra la voce della macchina fotografica e quella del microfono. Andiamo subito a collegarlo. Il microfono è stato collegato e l'audio che sentite in questo momento viene direttamente dal microfono senza alcun tipo di editing audio. Andiamo adesso a fare il cambio con la macchina fotografica e sentite che l'audio fa davvero schifo e c'è una grande differenza tra un microfono professionale e un microfono integrato invece su una macchina fotografica. Torniamo a sentire l'audio del microfono e chiaramente la differenza sostanziale c'è davvero poco da dire e adesso vorrei un attimo parlarvi dei pro e i contro di questo microfono. I pro come avete visto sono davvero tanti, la qualità del suono è fantastica, i materiali con cui è costruito sono davvero buoni e l'audio è davvero pulito, quindi diciamo che i pro secondo me sovrastano i contro. E parliamo un attimo adesso dei contro di questo microfono. Chiaramente essendo un microfono a condensatore con attacco XLR non funziona senza un amplificatore. Questo vuol dire che non può essere né attaccato direttamente nel nostro MacBook, nel nostro computer, nella nostra macchina fotografica e non può essere utilizzato senza appunto un mixer o un amplificatore con alimentatore Phantom. Questo vuol dire che oltre al microfono dobbiamo comprare anche un altro marchigegno da attaccare al nostro computer. Chiaramente questo diventa complicato per chi deve soltanto magari fare dei voice over o delle cose limitate al discorso senza canto o cose di questo tipo. E in questo caso magari io consiglio invece lo Zoom H2N che è un microfono che utilizzo da davvero tanti anni, infatti la recensione che ho fatto di questo microfono risale a tre o quattro anni fa ed è davvero orrenda sia in termini di video che in termini di cose comunque. In ogni caso vi lascio il link in descrizione e vi lascio il link soprattutto al prodotto che è lo Zoom H2N che secondo me è più adatto per i voice over e cose da YouTube, insomma cose più semplici. Invece sto utilizzando con il Rode NT1A la base, insomma l'amplificatore Scarlett che trovate anche questo in descrizione e è un modello che viene alimentato a USB per cui non ha alimentatore esterno, è davvero molto comodo, funziona davvero molto bene ed è essenzialmente una scheda audio esterna. Io mi ci trovo davvero bene e non posso che consigliarvi questa grande accoppiata che viene anche suggerita da Amazon. L'unico problema chiaramente è il prezzo perché viene 180 euro il microfono, 180 euro la scheda audio. Se invece comprate un Zoom H2N nuovo o usato in ogni caso non superate i 200 euro. Quindi la differenza di prezzo è sostanziale, in un caso avete più portabilità, nell'altro caso invece avete qualità da studio e la qualità da studio può essere un pro molto importante però io lo consiglio soprattutto per chi deve cantare ha bisogno una grande dinamica e una grande range di frequenze necessaria appunto a questo tipo di registrazione. Se invece dovete soltanto parlare vi consiglio invece lo Zoom H2N funziona benissimo e non si nota praticamente la differenza tra l'uno e l'altro quando si parla, si nota soltanto quando si canta e si fanno registrazioni leggermente più complicate. Ormai ho parlato anche troppo dunque avete sentito la qualità di questo fantastico microfono. Spero di esservi stato utile, se siete interessati a sapere come mai si sente così bene questo audio dopo essere stato editato, potete andare in descrizione e vedere il video dove vi parlo del voiceover perfetto come ho già detto prima. Chiaramente quello è il metodo che utilizzo io e i software utilizzati sono effettivamente a pagamento però sono sicuro che se vi impegnate un attimo riuscite a trovarmi gratuiti. Dunque ragazzi il video di oggi finisce qui, spero di esservi stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!